Grazie. Grazie. Allora, invito il testimone. C'è? È presente il testimone? Eccolo qua. Bene, diamo la parola al testimone. Quindi cercherò di stare nei tempi. Allora, diciamo che l'argomento, come abbiamo detto, è la 27.001. Partiamo da uno scenario in cui ci sono già dei fatti noti. Qui brevemente ricapitolo quello che sono gli oggetti di questo scenario. Regolamento europeo applicato in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018. Ad oggetto i dati personali. Affianchiamo quello che è l'oggetto della discussione applicato la ISO 27.001, invece è uno standard internazionale, quindi applicato in tutto il mondo, dal 1995, il cui oggetto è sicurezza delle informazioni. Già qui vediamo un primo parallelismo tra dati personali e sicurezza delle informazioni, perché in qualche modo possiamo vedere i dati personali come un sottoinsieme delle informazioni che vengono trattate e gestite nell'ambito della 27.000. Diciamo che la tesi che sosteniamo è quella di vedere la 27.001 come un punto di partenza per l'ottenimento della compliance al GDPR. L'abbiamo anche un po' rappresentato, nel senso che lo mettiamo un po' a metà strada. Ci saranno sicuramente degli aspetti che sono rappresentati in celeste, che nell'ambito della implementazione della 27.001 saranno già stati affrontati. Ho evidenziato in giallo, invece, quello che saranno sicuramente degli aspetti che dovremmo necessariamente andare a prendere in considerazione, per, come dicevamo, garantire la compliance al regolamento. Brevissima presentazione della ISO 27.001. La 27.001 è una certificazione che riguarda il sistema di gestione. Sottolineo già in questa fase che l'acqueditamento per la certificazione dei sistemi di gestione passa per la 17.021. Questo per non dare dei messaggi errati a chi mi sta ascoltando. Poi riprenderemo questo aspetto. Brevissima panoramica di quello che sono gli argomenti che sono trattati nella 27.001. Abbiamo una serie di controlli, in particolare, nello specifico, 114 controlli, divisi in 35 categorie. Come vedete, li ho elencati nella parte sottostante della slide. Abbracciano diversi argomenti, quindi andiamo da controlli di tipo più organizzativo, quindi di come l'organizzazione si approccia nella gestione dei processi, a controlli che entrano un pochino più negli aspetti tecnici. Qualche aspetto, diciamo, che va evidenziato della 27.001, che direi è abbastanza condiviso. Sicuramente è una norma, come abbiamo già detto prima, che è sul mercato da tanto tempo. Sicuramente sta avendo sempre più successo, in particolar modo in questi ultimi anni. C'è un trend di certificati che stanno aumentando in maniera esponenziale. È applicabile a qualsiasi tipo di organizzazione, inteso come settore merceologico, quindi la possiamo trovare applicata in contesti sicuramente ICT, dove in qualche maniera è stata un po' presa in considerazione in anticipo, ma anche in contesti completamente diversi. Applicabile a organizzazioni di qualsiasi dimensione, diffusa a livello internazionale, l'abbiamo detto, è flessibile, nel senso che dice cosa fare, ma non come farlo. Quindi una volta che noi abbiamo acquisito quelli che sono i controlli e i requisiti che la norma ci declina, rimane all'organizzazione la decisione di come approcciarli. È attuale perché è una norma sempre aggiornata, periodicamente, come tutti gli standard ISO, l'ultima versione del 2013. Punta all'efficacia, nel senso che non è una certificazione di facciata, ma punta al miglioramento del sistema, andando a valutare periodicamente e sistematicamente l'efficacia di quelli che sono i controlli che sono stati applicati. È un riferimento certificabile, ho evidenziato l'aspetto dell'indipendenza, perché comunque essendo un riferimento certificabile significa che le organizzazioni possono richiedere a un ente terzo, quale può essere un ente di certificazione come il RINA, che ha l'acqueditamento in questione, e quindi avere la possibilità di avere un riscontro oggettivo che il sistema è efficace. Brevissima panoramica di quello che ci chiede il GDPR in funzione del tipo di ruolo. Come vedete ci sono delle parole che si ripetono spesso. Garantire, essere in grado di dimostrare, attuare misure tecniche organizzative, questo riguarda sia il titolare del trattamento nell'ambito dell'articolo 24, analogamente nell'articolo 25 è tenuto ad attuare misure tecniche organizzative, a dare garanzie abbastanza simili a quello che viene richiesto al responsabile del trattamento, anche per la similitudine dei ruoli se vogliamo, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche organizzative, articolo 28, terze parti estere, anche loro affinché gli possano essere demandati dei trattamenti da parte del titolare del responsabile devono produrre adeguate garanzie, l'articolo 46. L'articolo 42 ci suggerisce, o meglio incoraggia, anche qua per non dare falsi messaggi ci tengo a sottolineare, parliamo di un incoraggiamento, non parliamo di una prescrizione, meccanismi di certificazione allo scopo di dimostrare la conformità al presente regolamento dei trattamenti che vengono effettuati nell'ambito dell'organizzazione. La certificazione individuata dal regolamento è una certificazione di processo, questo è l'aspetto a cui accennavo prima, quindi è una certificazione di processo gestita in ambito 17065, che è una certificazione, nello specifico così come decline al titolo, di prodotti, processi e servizi. Quindi ribaniamo la differenza che c'è tra una certificazione di processo e una certificazione di sistema. La certificazione di processo ci attesta in qualche maniera che il processo stesso risponde a dei requisiti applicabili. La certificazione di sistema la vediamo in qualche maniera come un qualcosa a supporto dell'erogazione del processo che permette all'organizzazione di strutturarsi e gestire le proprie risorse in modo da assicurare che il processo e il servizio che ne scaturisce sia conforme ai requisiti dati per esempio dal GDPR. Quindi l'argomento è sostanzialmente questo, la certificazione, seppur non è specialmente richiamata dal regolamento, integra attivamente la certificazione di processo prevista. Analogamente come le altre certificazioni di processo possono portare dei vantaggi, ritengo che la certificazione 27001 essendo un qualcosa che supporta l'applicazione delle certificazioni di processo possa portare una serie di vantaggi che sono assimilabili a quelle delle certificazioni di processo. Qui ne ho elencate quelle che sicuramente sono un pochino più immediate, quindi la prevenzione delle applicazioni amministrative, articolo 83, dimostrare la compliance, migliorare la trasparenza e rispetto del GDPR, garantire un livello adeguato di sicurezza a rischio, dimostrare di dare garanzie sufficienti nei ruoli che abbiamo visto prima, sia lato responsabile, sia lato parti terze. In questa tabella, come dimostrazione di quello che sto sostenendo, ho riportato una serie di argomenti facendo un parallelismo tra il GDPR e la ISO 27001. Ci sono numerosi argomenti che vengono trattati nel primo che trovano in qualche maniera modo di essere affrontati andando a sviscerare alcuni requisiti e controlli che la 27001 suggerisce. in particolare interessati, quando andiamo a sviluppare la 27001, il sistema di gestione di sicurezza e informazioni, dobbiamo come prima cosa andare ad analizzare l'organizzazione e capire qual è il contesto, definire le parti interessate. Il dato personale, l'abbiamo detto all'inizio, può essere interpretato come un sottinsieme della sicurezza delle informazioni che sono oggetto del sistema. In particolare c'è un controllo che è la 1814 che richiede spessamente anche un rispetto dei requisiti cogenti relativi alla privacy e alla protezione dei dati. La violazione dei dati trova una forte gestione nell'ambito della gestione degli incidenti relativi alla sicurezza e informazioni, quindi il controllo A16 dove vengono date delle prescrizioni in termini di tempestiva rilevazione, gestione e azioni di analisi a seguire l'evento distruttivo. Misure, in realtà, le troviamo un po' in tutta la norma. I rischi per i diritti e libertà delle persone fisiche l'abbiamo in realtà già detto quando andiamo ad analizzare le esigenze aspettative delle parti interessate sicuramente ci troveremo ad approfondire queste tematiche. Tutta la parte di trattamento del rischio ci permette di andare ad affrontare quello che è la valutazione di impatto che il GDPR ci chiede. Pianificazione dei controlli operativi ci permette di dare un approccio strutturato al rispetto dei requisiti in generale. Relazioni con i fornitori due minuti relazioni con i fornitori per affidamento delle attività di trattamento all'esterno la parte di progettazione la possiamo trovare nei requisiti che riguardano i progetti e lo sviluppo sicuramente più volte troviamo una chiara necessità di definire ruoli e responsabilità accelerando e concludendo quindi la conclusione direi che è questa implementando un sistema di gestione sicurezza delle informazioni in conformità alla 27.001 con gli opportuni approfondimenti ed estensioni l'organizzazione avrà risposta ai requisiti del GDPR e questo vale un po' a mio parere come dimostrazione della tesi iniziale. Grazie. Grazie a Dottor Procopio e apriamo adesso il processo nei pochi minuti che ho a disposizione vedo di contestualizzare quanto ci ha detto il testimone rispetto al quadro che cosa prevede il GDPR l'ha già ricordato lui lo ricordo però nuovamente anch'io l'articolo 42 come conseguenza o come una delle conseguenze dell'introduzione del principio di accontability prevede appunto che i titolari possano titolari ma anche i responsabili possano per esempio aderire a meccanismi di certificazione l'articolo 42 prevedeva che alcuni soggetti in particolare le autorità garanti i singoli stati membri ma addirittura la commissione europea incoraggiassero appunto l'istituzione di questi meccanismi di certificazione come sapete questo non è avvenuto come in tanti altri casi ahimè quindi ad oggi almeno a mia conoscenza non esistono ancora meccanismi di certificazione ex articolo 42 del GDPR tra l'altro qual era lo scopo quale dovrebbe essere lo scopo di questi meccanismi di certificazione lo scopo è quello appunto di aiutare i titolari e i responsabili del trattamento ad adeguarsi ad aderire a rispettare gli obblighi di compliance ma soprattutto di dimostrare non a caso tra l'altro l'articolo 42 fa riferimento esplicito alle cosiddette micro piccole e medio imprese nel senso che soprattutto queste proprio per evidenti problemi di risorse disponibili il fatto di poter aderire a un meccanismo di certificazione potrebbe aiutarli a raggiungere i risultati di compliance nel nostro paese tra l'altro questo tema delle piccole micro e medie imprese è un tema molto forte perché circa il 95% delle nostre aziende appartengono a questa categoria il problema è che in assenza di meccanismi di certificazione ex articolo 42 è possibile immaginare che la certificazione di cui ci ha presentato il testimone poco fa possa rappresentare uno strumento che consente non in modo totale ma in parte poter dimostrare che si è applicato o si sono applicati gli obblighi di compliance allora questo sarà il risultato della discussione io adesso passo la parola all'accusa e poi sentiremo anche la difesa e poi voi alla fine voterete e decideremo vostro onore nella testimonianza c'è stata una sottolineatura con gli opportuni adattamenti è in questa sottolineatura che secondo me noi dobbiamo trovare la verità in questo processo perché questi adattamenti opportuni quali sono e quanti sono tutti noi sappiamo che il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni è un'architettura è un modello molto utile per la implementazione di un sistema di compliance e tutti noi sappiamo che c'è una parentela fra il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni e il modello di compliance che il legislatore in materia di protezione dei dati ha avuto in mente però essere parenti non significa necessariamente essere uguali qual è la differenza in realtà di differenze ce ne sono varie però ce n'è una che porto alla vostra attenzione il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ragiona nell'ottica della tutela di asset cioè di una proprietà aziendale le informazioni hanno valore economico le informazioni sono parte del patrimonio aziendale questo sistema che è un sistema strutturato ben congegnato che si è dimostrato nel tempo utile e efficace in qualche modo protegge questo valore ma la parola è proprietà i dati personali di chi sono l'interessato l'organizzazione che ha dati personali è proprietaria delle informazioni no le ha in prestito che differenza c'è fra cosa di proprietà e cosa che è stata avuta in prestito cioè quando noi da proprietari ragioniamo a tutelare quello che è nostro potremmo dire quello che faccio per le cose mie lo faccio così com'è per quello che mi è stato prestato in parte in buona parte ma non totalmente perché perché quando una cosa mi è prestata c'è una relazione fra me che l'ho avuta in prestito e quello che me l'ha prestata e questa relazione che cos'è qualcosa di dinamico che può avere degli imprevisti io devo spiegare a quello che mi presta qualcosa perché me la presta questo nel sistema di protezione dei dati si chiama trasparenza è l'informativa ma l'informativa non è soltanto un documento è un processo ed è un processo che funziona se ci si mette nei panni dell'altra parte cioè in altre parole ci può essere anche una pianificazione di stesura di documenti di informativa una verifica che sono stati rilasciati un'azione correttiva se ci si rende conto che hanno bisogno di miglioramenti ma non c'è dubbio che per fare bene trasparenza ci vuole anzitutto un metodo che è fatto di comunicazione di linguaggio ma c'è un'altra particolarità l'interessato ha un potere di controllo sui suoi dati potere di controllo che in qualche modo è il regno dell'imprevisto l'organizzazione che riceve una richiesta di accesso una richiesta di opposizione al trattamento o le altre richieste che l'interessato può fare deve valutare e ponderare quello che le viene chiesto secondo dei criteri che possono cambiare e allora in definitiva è vero che il modello di analisi dei rischi che è proprio del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni può essere importato utilmente nel sistema di compliance privacy ma i rischi che bisogna valutare nel sistema di compliance privacy sono i rischi per le persone sono i rischi per la privacy ma anche i rischi per la libertà delle persone e il GDPR impone in molti casi di valutare possibili ricadute sulla reputazione dell'interessato o addirittura su aspetti di tipo patrimoniale quindi la violazione dei dati può essere un elemento che genera questo tipo di dinamica e allora non c'è dubbio che se noi ragioniamo nell'ottica dove al centro del sistema di compliance privacy c'è l'interessato che presta i dati noi ci rendiamo conto che questo lo dobbiamo calare nel nostro oggi e il nostro oggi è quello che ha motivato la commissione europea nel 2012 a proporre il GDPR se noi ci leggiamo la prima pagina della proposta della commissione europea vediamo che la commissione dice c'è una trasformazione velocissima incontenibile che è all'insegna dell'irruzione del digitale e di tutte le soluzioni legate al digitale nella vita delle organizzazioni pensiamo a quanto per esempio nelle aziende vanno di moda le app e a quanto molto spesso tante soluzioni che possono essere create per efficientare i processi per avere un miglior rapporto con gli utenti richiedono nel momento in cui si valuta come gestirle qualcosa che sicuramente ha a che fare con un'analisi dei rischi ma anche ha a che fare con una interazione fluida fra le funzioni che si confrontano cioè in altre parole con una mentalità con un'educazione di quelli che se ne occupano in cui il tema fondamentale non è soltanto come conformiamo questo a dei principi ma come prendiamo decisioni in tempi molto rapidi ricordandoci che c'è un'altra parte abbiamo visto prima nella testimonianza che anche il sistema di gestione di sicurezza delle informazioni prevede il tema delle aspettative le aspettative degli stakeholder e delle controparti però noi stiamo andando verso un modello di compliance che ci viene suggerito dai garanti europei per esempio nelle linee guida sulla valutazione d'impatto dove bisogna cominciare in alcuni casi anche a confrontarsi con le controparti le linee guida dicono quando la valutazione d'impatto evidenzia che i rischi sono significativi chi la fa il titolare aiutato dal responsabile deve mettere nel conto di sentire le controparti cioè che cosa fare per esempio avere un confronto con realtà rappresentative degli interessati oppure fare una qualche forma di intervista magari a campione però cercare di capire per gli interessati quale potrebbe essere la soluzione questo è un elemento dinamico che può essere processato ma che richiede nella gestione una duttilità una capacità di adattamento che è figlia di un modo di lavorare che in qualche modo è l'incrocio di saperi e di pratiche che nelle organizzazioni sono in qualche modo affidate a funzioni diverse illegale l'organizzazione i sistemi informativi e allora sicuramente non possiamo sottovalutare l'insegnamento che ci viene dall'esperienza del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni però dobbiamo farci questa domanda il regolamento quando è uscito e cioè nel 2016 era già un pochino pochino stagionato sì il regolamento è stato scritto a inizio decennio nel 2012 in quattro anni c'è stata l'esplosione del big data in quattro anni soluzioni estremamente sofisticate complesse sono diventate alla portata anche di realtà medio piccole e allora in qualche modo se i pilastri sono l'organizzazione la trasparenza il riconoscere il potere di controllo agli interessati con delle soluzioni anche creative anche innovative possiamo dire che andiamo verso una realtà dove possono esserci organizzazioni che sono certificate ma che magari per una sottovalutazione per un inciampo perché sono ingessate burocraticamente cascano su una non conformità e organizzazioni che non sono certificate ma che hanno capito come lavorare in questo contesto che hanno al loro interno gli strumenti di condivisione la metodologia che è quella che serve che possono invece essere portatrici di buone pratiche quindi andiamo verso una realtà fluida complessa dove tutte le esperienze meritano di essere considerate però dobbiamo avere ben presente qual è diciamo l'obiettivo finale e cioè qualcosa che non è nostro ma è altrui l'altro ok grazie grazie all'accusa grazie all'accusa per la lucida analisi soprattutto dei limiti ma giustamente insiti nella 27.001 proprio perché quando è stata scritta è stata scritta per difendere gli asset informativi delle aziende e mentre i dati personali appunto non sono delle aziende dei titolari ma sono degli interessati tra l'altro credo che non si debba mai dimenticare come si chiama come è stato rubricato il nuovo regolamento europeo il nuovo regolamento europeo relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche nonché della libera circolazione dei loro dati quel nonché ha a che fare in parte anche con la 27.001 bene passo la parola adesso alla difesa vostro onore grazie e dato che considero che il mio intervento parta già un po' declassificato perché ho apprezzato moltissimo l'eloquio coraggioso avvincente lucido del collega dell'accusa io cercherò di comportarmi come un vietcong negli anni 70 sapendo che il nemico americano ha il napalm e il B-52 e quindi con la mia cerbottana cercherò di nascondermi nel fogliame e di tanto in tanto lanciare una frecciata in qualche modo in direzione del nemico con tutto il rispetto per il collega dell'accusa naturalmente che nemico non è diciamo che se discutiamo di certificazioni andiamo per paradossi la nostra classe politica attuale ha tre campioni giovani tre leoni di tre partiti diversi di tre aree del paese diverse nessuno dei tre è certificato se io vado a fare un concorso nella pubblica amministrazione a Picale mi chiedono che laurea hai conseguito in qualche modo è una convenzione per dire hai una benedetta certificazione e i nostri tre campioni non hanno una certificazione vorrei portare avanti ulteriormente il paradosso voi tutti avete seguito in queste ore la vicenda del decreto legislativo sapete che fine ha fatto nessuno lo sa possiamo dare la notizia ma veramente nessuno lo sa neanche io no scherzo è stato bollinato stamattina in ragioneria generale dello Stato adesso come si faceva una volta il motociclista porterà il documento dalla ragioneria generale dello Stato alla presidenza del Consiglio dalla presidenza del Consiglio un altro motociclista farà da staffetta e lo porterà alle commissioni bicamerali per il controllo sugli atti del governo lì loro faranno weekend in ufficio approveranno il documento e lo manderanno nuovamente tramite lo stesso motociclista che dalla settimana precedente sta aspettando lì davanti nuovamente al governo lì il primo motociclista che sta aspettando da quattro giorni lo porterà a quel punto al garante della privacy il garante della privacy con suoi mezzi lo farà avere direttamente a Palazzo Chigi però questo arriverà probabilmente a venerdì pomeriggio ma voi sapete che il Consiglio dei Ministri si riunisce il venerdì mattina e quindi rischiamo di arrivare al 21 maggio senza fare nulla allora tutta questa procedura non è certificata è questo il problema qual è il rischio in tutte queste cose il rischio naturalmente è la fede perché noi siamo cattolici quindi pensiamo che con la confessione possiamo commettere dei reati e dato che poi li abbiamo confessati automaticamente abbiamo mondato l'anima e si cancella negli Stati Uniti un presidente viene mandato quasi in galera non per un sigaro ma perché ha mentito sul sigaro che è una cosa diversa e quindi è evidente che il problema della certificazione è un problema serio che genera qualche equivoco e quindi avrò pochi minuti adesso per dire cosa voglio dire l'intero meccanismo del GDPR è un meccanismo complesso che richiede un cambio di testa questo cambio di testa non c'è stato e richiederà tantissimo tempo e che cosa avviene avviene che ovviamente voi tutti quanti voi siete addetti ai lavori sapete che il GDPR è stata la cosa più sofferta dell'Unione Europea dalla sua Costituzione cioè dalla Carta di Roma del 57 è stata l'occasione in cui le lobby hanno espresso il più alto potere di pressione anche economica naturalmente quindi è una di quelle cose che ha avuto la più alta posta in gioco della storia dell'Unione Europea quindi non stiamo parlando di bruscolini è evidente che nel momento in cui arriva questa montagna su una popolazione di imprese di pubbliche amministrazioni che non ha la testa ancora per fare queste cose e bisogna correre però quando avvengono queste cose arrivano anche i quattrini quando arrivano i quattrini arrivano i cowboy e quindi c'è stato un assalto alla diligenza degno della scena di ombre rosse in cui la diligenza viene inseguita da una marea di siù e naturalmente questo ha determinato una condizione che potremmo definire dei dilettanti allo sbaraglio e i dilettanti sono molti professionisti improvvisati che non hanno gli strumenti adeguati e offrono servizi inadeguati a società che credono dopo aver pagato di essere adeguati al GDPR è chiaro che ci sono dei corti circuiti uno dopo l'altro in questi casi e allora come si fa a fronteggiare una condizione così difficile di cambio culturale bisogna trovare degli strumenti che ci aiutino allora la certificazione forse la domanda è malposta su un buone servono diciamo che la certificazione diventa un punto di riferimento rispetto al quale prendere delle distanze come fate voi a capire se quel signore perché nel momento in cui noi diciamo che ognuno ha la soluzione sartoriale che è la cosa corretta che va detta a un'impresa mentre voi lo dite a fin di bene con la consapevolezza che ciò che occorre fare non è vendere un prodotto che assomiglia ad una cialda del Nespresso uguale per tutti arriva automaticamente l'improvvisatore e dice anche egli che la sua è una soluzione sartoriale anche perché qualunque cosa faccia è sempre un prodotto sartoriale fatto appositamente cioè non può essere confrontato si potrebbe obiettare ma la certificazione allora che fa mette tutti quanti sullo stesso livello diciamo che la certificazione può rappresentare un elemento un modulo comune rispetto al quale di fronte alla parte indifferenziata su cui poi ci si confronta in modo personalizzato quella rappresenta un sistema comune che ha delle funzioni precise cioè difende come dire i dati dei dipendenti e i dati dei clienti e la certificazione dice quali sono le modalità comuni e condivise per fare questo fa un'analisi dei data breach e una metodologia di previsione sui data breach e questo serve fa una serie di cose fino alla previsione di difesa del marchio quindi la certificazione che è un oggetto che potrebbe sembrare come le cinque avemarie appena usciti dal confessionale e quindi è stata una foglia di fico per lungo tempo per far passare anche cose inutili considerate che la certificazione è una invenzione europea voi sapete non esiste certificazione né in Giappone né negli Stati Uniti gli americani dicono non esiste la qualità la fa il mercato se il mercato non ti sostiene vuol dire che sei da quattro soldi noi abbiamo avuto questa esigenza perché perché noi abbiamo avuto tutta una serie di situazioni in cui paesi piccoli con norme limitrofi si sono confrontati su un mercato che tendenzialmente andava ad unificarsi abbiamo avuto delle esigenze molto specifiche molto particolari che in parte con caratteristiche che in parte permangono ancora tant'è che in queste ore la polemica è proprio sorta sul fatto degli adeguamenti del GDPR che è uno strumento straordinario unitario per 27 paesi più la Gran Bretagna nonostante la Brexit ma che deve essere poi adeguato alle personalizzazioni dei paesi quindi in questo caso la certificazione può rappresentare un oggetto che potremmo definire non inutile potremmo definirlo come un oggetto utile necessario non sufficiente per chi ritiene che usare la certificazione possa essere una foglia di fico capace di coprire ogni innudità ma uno strumento che consente comunque un primo livello di comparabilità tra soluzioni e se volete anche tra offerte perché anche le imprese sono totalmente disorientate quindi il rischio oggettivo è che le operazioni che tutti abbiamo immaginato finissero il 24 maggio come la notte di Capodanno pronti a stappare lo champagne la notte tra il 24 e il 25 il 25 mattina incomincia un anno nuovo ma non è la fine dei giochi i giochi cominceranno il 25 mattina e dal 25 mattina tutti quelli che hanno speso male dovranno prendere e buttare dalla finestra quello che hanno speso e saranno in tanti a dover far questo quindi bisogna avere molta pazienza spiegare le cose e come dire mettere in moto dei meccanismi virtuosi che consentano comprensione franchezza e che vedano tutti uniti contro i cosiddetti impostori del settore che in questo momento hanno avuto per alcuni versi ancora oggi vita un po' troppo facile detto questo ho chiuso e vi ringrazio grazie anche alla difesa per la stimolante come dire analisi sulla funzione che può avere la certificazione in senso lato adesso passo la parola ai giudici alla giuria popolare per fare la loro parte vostro onore il grande Eros Ramazzotti cantava se bastasse una bella canzone a far piovere amore si potrebbe cantarla un milione un milione di volte io affermo se bastasse una certificazione a proteggere i dati e le informazioni da minacce di ogni tipo al fine di assicurarne l'integrità la riservatezza la disponibilità e a fornire requisiti per adottare un adeguato sistema di gestione della sicurezza delle informazioni finalizzato da una corretta gestione dei dati sensibili dell'azienda beh l'Italia sarebbe il paese più sicuro digitale ed efficiente del pianeta Terra purtroppo non è così il settore delle certificazioni continua a crescere sia per quanto riguarda le certificazioni basate su normative internazionali sia per quanto concerne i regolamenti volti a soddisfare le esigenze specifiche dei diversi settori è noto che in Italia trovare lavoro non è un'impresa semplice soprattutto per i più giovani un paese che affoga nella burocrazia e che certamente non rappresenta un modello di praticità e concretezza ampio spazio è dedicato alle opportunità professionali del mondo informatico in particolare sul tema della formazione e delle certificazioni informatiche che rivestono un ruolo chiave per la preparazione dei professionisti dal 2016 l'Italia è il primo paese in Europa in cui i profili professionali per l'ICT sono stati regolamentati e dalla nascita del DESI l'Italia è il venticinquesimo posto su 28 paesi UE e questo la dice lunga ma orientarsi nel vasto panorama dell'ICT è tutt'altro che semplice dal momento che migliaia sono gli attori e enti associazioni che propongono corsi e certificazioni informatiche rivolti a studenti docenti professionisti pubblica amministrazione sanità eccetera la certificazione utilizzata come mero business questa è la realtà la pubblicità assordante ed ammaliatrice seduce con argomenti quali livello adeguato di competenze digitali gli standard per l'alfabetizzazione informatica riconosciuti materiali formativi dedicati uso competente delle tecnologie informatiche in tutto il mondo chi più ne ha più ne metta la diffusione esponenziale di sistemi informativi automatizzati di applicazioni in cloud apposto in primo piano per le aziende il tema della sicurezza delle informazioni come chiave della fiducia dei clienti l'evoluzione tecnologica comporta insieme a numerosi di innegabili vantaggi anche il nascere e l'evolversi di altrettante problematiche legate sia al corretto utilizzo degli strumenti tecnologici sia alla loro intrinseca sicurezza qualsiasi programma se non è allineata all'omissione aziendale potrebbe rivelarsi una perdita di tempo e denaro una norma è importante perché crea un quadro concettuale di riferimento uno standard si rivolge a tutte le imprese pubbliche private di paesi sviluppati in via di sviluppo fornisce delle utili linee guida principi fondamentali che danno indicazioni all'impresa su come integrarli nell'attività di business ma deve essere chiaro che uno standard è innanzitutto un modello di riferimento a cui ci si uniforma basato anche su concetti quali responsabilità trasparenza etica rispetto ho cominciato con Ramezzotti e concluderei con un proverbio indiano non puoi comprare la saggezza con la ricchezza grazie nonostante la simpatica esposizione della difesa io non posso che aderire al punto di vista del pubblico ministero e data la brevità del tempo consentito mi appellerò a questioni formali la norma ISO 27001 copre come è stato detto la sicurezza delle informazioni General Data Protection Regulation copre i trattamenti dei dati personali ci sono solo alcuni punti di intersezione quindi di sovrapposibilità dei due insiemi con un sotto insieme comune ma non per tutto purtroppo questo può avvenire è tanto vero che tutti gli aspetti giuridici del trattamento restano fuori e in particolare sono stati già anche citati i diritti degli interessati ed è tanto vero che i requisiti di legalità nella 27001 richiamano espressamente nel testo inglese la relevant legislation and regulation questo vuol dire tradotto dall'inglese giuridico la legislazione vigente in materia di protezione ai dati personali e questi sono gli aspetti formali e poi vorrei riprendere anche un punto che è stato citato dal giudice l'aspetto della previsione nel regolamento di apposite certificazioni in materia di data protection sono quelle appunto previste dall'articolo 42 quindi mai e poi mai una certificazione ISO che ha finalità completamente diverse e uno scope cioè un ambito di applicazione ben distinto potrebbero essere necessarie e sufficienti a coprire le obbligazioni necessarie per essere invece conformi a tutti gli obblighi del regolamento sulla protezione dati europeo un ultimo punto facendo appello al criterio di accountability cioè di responsabilizzazione che pervade tutto il regolamento non si vede come una certificazione cioè comunque un documento possa essere necessario e sufficiente per dimostrare appunto la conformità alla normativa tanto rigorosa e che amplia tanto i diritti degli interessati in caso di eventuali trattamenti illeciti e ho finito grazie bene allora direi che dopo aver sentito sia l'analisi come ho già sottolineato prima della difesa ma anche devo dire della offesa ma anche le argomentazioni della giuria popolare credo che il quadro che avete a disposizione sia sufficiente per poter come dire prendere una decisione è stato sottolineato che il GDPR che appunto qualcuno ha ricordato è stato come dire la proposta risale al 2012 la pubblicazione è stata del 2016 in quei quattro anni sono successe cose davvero che prima non erano mai successe rispetto a un provvedimento un testo di legge e questo proprio per gli interessi che sono in gioco è vero anche che l'introduzione del principio di accontability ci obbliga come ha detto stamattina l'avvocato Lisi a fare una svolta e io ho aggiunto attenzione che non continuiamo ad andare dritti perché rischiamo di farci male ma anche facciamo in modo di non fare troppo velocemente quella svolta perché rischiamo di farci male lo stesso insomma non facciamoci prendere dal panico facciamo le cose fatte bene è vero il legislatore europeo ci chiede di fare delle cose molto impegnative secondo me soprattutto da un punto di vista culturale e organizzativo più che tecnologico allora la 27001 in mancanza dei meccanismi di certificazione che qualcuno avrebbe dovuto come dire fornirci può rappresentare un punto di partenza attenzione solo un punto di partenza proprio tenuto conto del fatto che la 27001 fa riferimento alla sicurezza delle informazioni e non alla protezione dei dati personali e pongo a voi questa domanda e vi chiedo di votare mi pare che la maggioranza sia di colore blu e quindi può vi ringrazio e vi auguro buona prosecuzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti